Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggio e mi trovo a bordo di Costa Smeralda. Sono al Ponte 8 e voglio farvi vedere uno dei due teatri che si trovano a bordo. Venite con me! Venite con me! Quindi il divertimento è assicurato. Venite! Spero vi sia piaciuto, vi aspetto a bordo di Costa Smeralda. Ciao! Grazie! 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 Grazie!